Per salire sulla grande assalì, stavolta vado con Andrea, che è un grande alpinista escalatore, che è là che si prepara. Si vede il grande assalì che è là dietro, che in pessime condizioni, infatti siamo tutti ben attrezzati stavolta. Il ciaio è in pessime condizioni. Non è un casino. Non è più solente di qua. E poi scende così. Con la placca è in posta. Qui si trova, il sud è lì. E poi in tazzo. a questo con cautela si deve sovra è un po' più bello e anche un po' più bello e anche un po' più bello e anche un po' più bello hai visto la pietraia dove sono saliti, quella lingua là, tutta la pietraia, una mezza costa tra le pietraia, la c'è il rifugio adesso prima l'ha scoperto, adesso c'è una nuvora che ti passa davanti e di qua, boh, la palle lì, non so che palle, di là ci deve essere, non so, ci si vede molto questa è la placca quello lì scuo? ecco il monte bianco si vede bene è un due, è un'altra città Grazie a tutti.